Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccomi qua l'ultimo giorno di vacanze, quindi vi volevo con questo piccolo video augurare un inizio di anno lavorativo con i fiocchi, spero che queste feste che siano appena trascorse, sono trascorse in armonia e felicità per tutti quanti voi, le mie sono state relativamente di relax, anche se il mio anno 2019 è stato abbastanza di relax, comunque io vi auguro per questo inizio di anno lavorativo 2020, un anno pieno di gioia, piena di fortuna di qualsiasi tipo, fortuna personale, lavorativa, professionale, familiare, qualsiasi tipo di fortuna, ve lo auguro con il cuore e nulla, buona epifania a tutti!